Buongiorno, stamattina mi trovo a Santi la Rodenza, località Calerno, esattamente in via Andersen al Civico 6. In questo momento sono all'interno di questa corte di un residence composto da quattro condomini. Questi quattro condomini sono stati edificati nel 2014 con soluzioni energetiche e architettoniche davvero all'avanguardia. Ma andiamo a scoprirlo insieme. Parto col dire che ci troviamo al secondo ed ultimo piano e siamo esposti a sud. Ma mi rendo conto che la prima cosa che avrete notato è che l'architetto in questo caso ha avuto assoluta carta bianca. E' proprio per questo che questa soluzione è moderna, una soluzione giovanile, una soluzione che lascia bocca aperta. Abbiamo una zona giorno open space dove troviamo una cucina, una zona divano e una zona pranzo-cena. Abbiamo una zona notte anche in questo caso aperta e un bagno con lavanderia. Ma non vi racconto tutto, ci vediamo tra un po'. Avete visto con quanto gusto è stata curata questa soluzione? Tra l'altro voglio terminare questo video tour dalla loggia. Una loggia coperta completamente esposta a sud anche lei e assolutamente vivibile. L'immobile è dotato di riscaldamento a palimento, zanzariere, impianto di aria condizionata, pannelli solari e abbiamo la predisposizione anche dell'allarme. Tutte le finiture di questo appartamento non solo sono di fuori capitolato, ma sono assolutamente di ottima fattura. Al piano interrato troviamo anche il garage. Ora se vuoi maggiori informazioni o vuoi prenotare la tua visita privata, non devi fare altro che chiamarmi ai numeri che trovi qui sotto. Ma se devi vendere casa, mi raccomando, affidati ai professionisti di sempre. A presto! A presto!